ciao a tutti allora oggi sfogliamo insieme l'album numero 13 del libro che va fino al 24 ottobre del 2018 allora vediamo tantissime promozioni autunnali per rimetterci in forma soprattutto per la cura del viso quindi prodotti set per la cura del viso omaggi e il caso di acquisto di un prodotto secondo scontato del 40 che non è male il make up autunnale e anche la promozione per il bagno doccia quindi direi di iniziare subito a sfogliare allora eccoci iniziamo a sfogliare questo album che tutto tutto dedicato alla cura del viso soprattutto prima di tutto ogni 15 euro di prodotti con tutto l'album sia in omaggio alla mitaglia di prodotto per il trattamento viso tra il rich cream serum vegetale elixir geness e l'idra vegetale potete tranquillamente sceglierlo voi ogni 15 euro mettete il codice sottolineato per scegliere il trattamento e ora vediamo ecco qui e c'è la promozione che acquistando un prodotto viso il secondo scontato del 40 per cento su tutte le linee quindi come si fa il primo lo si sceglie tranquillamente con il suo codice il secondo al prezzo scontato con il codice rosso quindi primo eccolo qui e tra quelli tutti prodotti con il codice normale il secondo col codice rosso ed è scontato del 40 per cento poi abbiamo una novità che è il city detox è un trattamento liquido da giorno che dice di associare la texture in gel liquida con le micro gocce ed è perfetto per proteggere e retossinare e purificare la pelle dopo l'inquinamento delle giornate è perfetta anche per ravvivare la luminosità del viso quindi un buon momento anche per acquistarlo ed è un altro prodotto scontato del 40 metto tutte le linee e per stessa cosa ecco tutte le linee prima prodotto normale secondo con il scontro dei 40 eccoci tutti quanti anche tutti tutte le linee vegetale la sebo digital senza di vegetale pur system tutte quante vediamo ora il makeup autunnale perché ci sono nuovi colori intanto nuova palette eccola qua che è bellissima con i toni dei nude però su rosa sono fantastici i rossetti che sono meravigliosi questi li ho provati io e gli smalti comunque si vedono di più nei dettagli qui e quelli qua con i colori anche autunnali gli smalti che sono tutti nei colori autunnali ecco le quale palette quella autunnale è fantastica con i colori classici ultima promozione per questo catalogo sono i due bagno doccia a 6 euro 95 due bagno doccia da 400 ml l'uno quindi sono belli grandi potete tranquillamente scegliere i vostri preferiti come sempre primo col codice nero secondo col codice rosso sono 6,95 quindi di tutte e due tutte le profumazioni tutte quelle disponibili e oltretutto fino alla fine fino a fine catalogo quindi tutto il catalogo ogni 15 euro se non maggio alla mini taglia del trattamento viso e questo era tutto l'album come sempre qui sotto nell'info box c'è il link per contattarmi per le informazioni e per gli ordini c'è sempre anche il link per scaricare il catalogo in formato pdf così potete tranquillamente sfogliarlo sui vostri dispositivi multimediali e sempre qui sotto c'è anche il link del catalogo di natale che bene si è arrivato e quindi non mi resta che augurarvi buoni acquisti naturalmente profumati con il magico naturale mondo di vero www.marcoparet.com Grazie a tutti.